You want what you want to do E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Come potete vedere siamo in un'ambientazione alquanto diversa Perché siamo con il Demon Hunter E siamo a Stormwind che è una città che non visitavo da una vita Infatti effettivamente specialmente con questo nuovo Molidor Cioè vedo tutto bello, meraviglioso, stupendo Vedo tutte monde diverse tra l'altro questa mai vista in mezzo Oppure ne avevo visto anche un'altra Infatti ero pure chiesto qua su tipo Vabbè E voi mi direte perché siamo a Stormwind? In realtà non c'è un motivo apparente per essere a Stormwind Ma c'è un motivo per la quale ho loggato il Demon Hunter Che nonostante sia a livello 100 E noi ce ne sbattiamo il cazzo e facciamo Biggie lo stesso Perché un ragazzo mi aveva chiesto se facevo un altro video PvP Io ho detto sì ma rifare un altro video con il War sarebbe un po' diciamo monodono Perché l'ho sempre fatto con il War Comunque vorrei farvi notare quanta cazzo di gente c'è a Stormwind Cioè è un delirio Questo fatto del praticamente across server in cui vengono persone da tutti i server Io lo approvo molto Perché se non ci fosse questa cosa Stormwind sarebbe praticamente vuota sono sicuro O semi vuota Ah comunque se ve lo state chiedendo c'ho il vizio di ispettare qualsiasi cosa Ma perché io ce l'ho sto nel Wind Forest? Ma che problemi c'ho? Vabbè intanto andiamo a Dalaranva che ci facciamo magari qualche quest Tanto che aspettiamo Ah oddio c'ho una quest strana che avevo già fatto ma mi ricordo avevo sbagliato qualcosa Andiamo a fare sto ciretto con questa specie di Goblin volante Gargoyle Gargoyle gigante sarebbe giusto Allora praticamente dobbiamo arrivare su un punto Qua E sopravvivere a tutti questi attacchi di merda Mentre mi... Uh si vola E la madonna Ah che ficata di scenario Che devo fare? Devo assorbire? Devo assorbire l'anima dei demoni Wow Ah devo ammazzarne 8 miliardi di milioni Cazzo Ah allora qua c'è abbastanza folla vedo Eeeh Eeeh Non ti arrabbia Allora c'è cazzo faccia? Questo cazzo faccia? Ah credo sia il mio cd Bleh Facciamolo Ah si Sia il mio cd atomico Per il danno Non è che facciamo tutti questi grossi eccelsi danni Comunque cioè ci mettiamo abbastanza per ammazzarli Veloci Dobbiamo fare qualcosa qui Boom Oh Arrivato il boss Due boss Finti boss Ogni danno C'è qualche caletto di fps Che mi fa un po' girare il cazzo Eeeh Oh oh Mi devo togliere da qui Mi devo togliere da qui Uno se n'è andato Dai che anche tu ci saluti zio vai Levati ai coglioni Faccio sto favore No Vabbè Oh ok Tu ti sei levato dalle pallette Ah adesso devo tuffarmi là dentro Ah non ho mai stato la spell più bella Questa Sono un pollo Un polletto Se ti cale fps mi stanno rompendo il cazzo ovviamente Noi faccio 85 fps Però ogni tanto c'è uno qualche scattino Salve Mi scusi Dovrei giusto giusto Assorbire la sua anima Con permesso Oh fa male sto tizio però eh Mori un po' Vai Fai il bravo Ciao Ho effettivamente sbagliato Perché come vedete Gia un raggio Qui sopra Che va 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 E arriva là Devo quindi prima ammazzare quello E poi Andare qua Ma guarda tu questi Che mettono tutti questi ostacoletti Che verranno stuprati male Bisogna mettere comunque il demon hunter È veramente un personaggio Fico L'utilità di questo muro Ah ah Sono passato lì Cioè non c'ha senso Ah becille Gliel'ho fatto avanti la faccia Coglionello Ah ma a parte Devo fare comunque la quest Che la la D'assorbire le anime Dei demoni Quindi mi conviene comunque Ammazzarli tutti 84 Ho l'impressione che devo Shottare tutti invece Su questa palle Prima di finire La quest Quindi rimediando La stronzata che ho fatto prima Devo ammazzare questo Perché sicuramente Mi ha un sacco di percentuale Boom Boom Io spero che questi Caletti frame rate Guarda Non si vedono molto Nel video perché Mi stanno facendo Relativamente sclericchiare Vai su Morite tutti Fate bravi Ho finito Uh attenzione Una scenetta Andremo ad ammazzare Questo Praticamente Demon hunter Corrotto Allora Ho cambiato qualcosa Sulle impostazioni A video Perché Non lo so Sta cosa Gli scattini Mi stava facendo Partire di testa Oh caro mio Vieni qua Vieni dai Facciamo gestolo contro uno Che non so se finirà bene Visto che c'hai Un botto di vita Vaffanculo a te E fai mi copi le spell Ma zitto un po' Ma zitto un po' Kill Jaden Addirittura Gli ha ordinato Di non fallire Uh Praticamente Ho preso L'artifatto Finalmente Guardate Guardate No Non mi finisce la quest Però Veloce Quanto c'ho? Più o meno 30 secondi Cazzo Mi sa che ci metto troppo Dai 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 Muoviti No Si Ok Mamma mia Se non finivo lì Tiravo io tutto Oh che bello Il mio PG preferito Praticamente Arati Prendiamoci anche questi Quindi ragazzi Questo episodio è una ficata Perché è venuto tutto perfetto Sono riuscito a completare Questa a culo Abbiamo preso anche Gli artifatti Perfetto Cazzo Meglio che così Questo episodio Non so Deve raggiungere 8 milioni di visualizzazioni Quindi spammatelo In ogni dove Mi raccomando In ogni dove Se vingiamo pure sto PG Proprio Stiamo a tutta Allora Vediamo di spaccare giusto Qualche culo subito Direi di provare subito La nostra spell Ah È a voi intorno Che palle Under queste spell Per resistere Funz 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 Ah È questo stronzo Qui l'healer Allora Qui ragazzi La situazione sta degenerando Perché io Voglio ammazzare Nel giustamente Questo healer Ma non ci di Per farlo Ah Volevi castarlo Invece non l'hai fatto Dai Mori un po' Morto finalmente GG Ci liberiamo dallo stun C'è sicuramente Nello healer Infatti è quello là Te becco Vieni qui Bastardo Guarda come scappa Come sempre È pieno di Oh li stiamo scacciando Però attenzione Ma break touch Non lo farai mai Nella vita Io sto per morire Visto che non c'è Ovviamente non abbiamo Un cazzo di healer Vabbè ciao ragazzi Carino il demon hunter Comunque cioè Potenzialmente Credo Sia veramente forte Anche in arena Tutta questa mobilite Che c'ha Ok L'idea di buttarsela Dentro È alquanto sbagliata Visto che è pieno di gente Qua sotto Com'è la situazione Tutto tranquillo Direi di Unirci ai nostri amici Qua alla farm Per provare a prenderla Cosa che stanno già facendo Praticamente Oddio in realtà Mi toglierai ampiamente Dal cazzo Perché ci hanno Devastato È rimasto solo Uno dei nostri E basta Quindi cambiamo target E andiamo a rinforzare L'umber mill Oh ma che cazzo Vai mi passa il fianco così A te pare Salvate Brutto coglione Ti spacco tutto Ma che non c'ho niente Per rallentare io Ho il mio cd Boh Ma ti spacco tutto Dove sei Eh l'umber mill È nostra Bam 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 C'è un healer dietro Ma se mi ha giocotto Non va a finire bene Però ci prendiamo lo stesso Dai Incuto timore Praticamente Ho aggagnato Una way scandalosa Perché La spell Della Dell'artifatto È prettamente away Cioè Sparano del lame Intorno così Allora Questo maghetto Qua di te che sta spammando Da un'ora Direi di fermarlo subito Comunque mi sembra veramente strano Che io non abbia un cazzo Per Per rallentare Ma Quanto mi piace questa spell Dio Bellissimo Sto morendo di nuovo Cazzo È ardua Come fa a piacervi Questo schifo di mondo Guarda che schifo Che schifo Un ragno gigantesco Ma che schifo Attenzione I due avversari Si scrutano da lontano Questo è un healer Questo è un healer Lo stronzo healer Solito che rompe le palle Scopiamolo Mi ci sto tagliando Fin troppo Questa cosa Ok è morto Andando noi abbiamo conquistato Niente non è Sto per morire Un'altra volta Cristo di Dio Mori ad un healer Ho visto la mia vita Risalire Ah guarda che bello Stupro di gruppo Su questo druido Sto per morire Ragazzi Ahimè Ha vinto l'orda Però Ci hanno dato un gold Strong box E io sono Secondo i danni Tra l'alli Vi ho fatto Praticamente Metà Commentary E metà Col montaggio video Eccetera Perché Alla fine Risulta anche Relativamente Attenzione Però sto zitto E ci becchiamo Questa gioquest Leggendaria Praticamente Glide Dove Lidare Rabout Oh che Ficata Dove Andare La Oddio Se io mi sbagliassi Tipo Bellissimo Ok Ecco Ah beh Ok Mi pareva Dio mio Accettiamo Questa quest Ragazzi Io Vi saluto E la prossima volta Porteremo Questa quest Non vi preoccupate Basta che Seguite il canale E vi iscrivete Noi ci vediamo Nel prossimo video Come sempre Ciao a tutti ragazzi